Una delle sfide comuni che i proprietari di cani affrontano è quella di evitare che il proprio amico a quattro zampe si sdrai sul loro letto. Mentre molti di noi amano condividere il nostro spazio con i nostri cani, a volte vogliamo che il nostro letto rimanga un rifugio esclusivamente umano. Ecco alcuni consigli su come puoi addestrare il tuo cane a smettere di sdraiarsi sul tuo letto. Fornire un luogo comodo per il tuo cane. I cani amano i luoghi comodi tanto quanto noi. Assicurati di avere un cuscino o una cuccia comoda e accogliente per il tuo cane in una parte della casa. Quando il tuo cane ha un posto confortevole tutto suo, sarà meno incline a cercare il tuo letto. Addestramento basato sulla ricompensa. Utilizza un addestramento basato sulla ricompensa per insegnare al tuo cane a stare lontano dal tuo letto. Quando il tuo cane si trova a una distanza accettabile dal letto, premialo con un bocconcino o un elogio. In questo modo, il cane associerà la distanza dal letto con una ricompensa positiva. Imposta confini chiari. Fornisci al tuo cane confini chiari nella casa. Usa comandi come in fuori o lascia per indicare al tuo cane che non è permesso sul letto. Sii costante nell'applicazione di questi comandi. Uso di una barriera fisica. Una barriera fisica come una porta per animali domestici o un cancello per animali domestici può aiutare a mantenere il tuo cane fuori dalla tua camera da letto. In questo modo, avrai il controllo sulla sua accessibilità al tuo letto. Mantieni il tuo letto poco invitante. Alcuni cani possono essere attratti dal profumo del proprietario sul letto. Per rendere il tuo letto meno invitante, puoi usare coperte o lenzuola che il tuo cane non ama particolarmente. Inoltre, puoi proteggere il tuo letto con coperture resistenti ai peli, facili da lavare. Fornisci esercizio sufficiente. Un cane esausto fisicamente è meno incline a cercare il tuo letto come un luogo di riposo. Assicurati di dedicare tempo sufficiente all'attività fisica del tuo cane, come passeggiate, giochi e esercizi. Evita di punire in modo eccessivo. Mentre è importante applicare regole chiare, evita di punire il tuo cane in modo eccessivo o aggressivo se lo trovi sul tuo letto. La paura o l'ansia possono causare comportamenti indesiderati. Coerenza La coerenza è fondamentale nell'addestramento del cane. Assicurati che tutti i membri della famiglia applichino le stesse regole e comandi. Amore e pazienza Ricorda che il tuo cane è parte della famiglia, e il suo desiderio di stare vicino a te sul letto deriva dal desiderio di essere con te. Mostra amore e pazienza nell'addestramento, e il tuo cane risponderà positivamente. Consulta un addestratore professionista Se stai lottando per far smettere al tuo cane di sdraiarsi sul tuo letto e hai esaurito tutte le opzioni, potresti voler considerare la consulenza di un addestratore professionista. Questi esperti possono aiutarti a individuare e risolvere specifici problemi comportamentali del tuo cane. In conclusione, far smettere al tuo cane di sdraiarsi sul tuo letto richiede pazienza, coerenza e addestramento basato sulla ricompensa. Ricorda che il tuo cane è una parte preziosa della tua vita e che l'addestramento dovrebbe essere un processo che rafforza il vostro legame. Con amore, comprensione e un pot di lavoro, puoi ottenere il risultato desiderato e mantenere il tuo letto come un rifugio solo per te. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per altri contenuti simili a questo. Resta sintonizzato per il nostro prossimo video.